Gigiana cosa starebbe qui, Fazzuoli, la super strada starebbe qui, queste zone qui, ecco il 20 per cento di questo territorio è scavato e inguinato, da 18, 20, 12, il più poco è 14 metri e a me vuole dire che sono assassino, sono stato, è vero. Le ha ammazzato persone? Sì. Quante ne ha ammazzato? Eh parecchie, non ho intenzione di dire, ma sono parecchie. Arrivavano centinaia di camion dal nord Italia. Venivano da Lombardia, del Veneto, del Piemonte, da tutto il nord Italia, Massacarraro, da Santa Croce sulle Arne, venivano tutti i fancri, quelli che pulivano i pelle e cose, quella roba lì. Ammesso sempre a verbale che dei camion arrivavano anche dall'estero? Sì, era a Germania, era a Austria. Ma arrivavano con delle bolle regolari? Ma tutta ci usciva con bolle regolari. Le zone di competenza erano divise per famiglie? Eh sì, noi controllavamo tutta la logica certa. Controllavamo il potere politico, i comuni, i clan, i capazzoni che tenivamo lì. Come li controllavate? Aspetta che ti faccio vedere le camion. Io sono stato costretto a fare tutte queste copie, a darle ai giornalisti e a tante. Vabbè? Allora, questo è il famoso… La sua audizione che ho letto. Sono tutti i comuni? I comuni con i nomi di Capazzoni. I comuni con i nomi di Capizzona. Napoli, Villa Ricca, San Cipriano, Villa Literno, Castelvolturno, Caserta, Mondragone e accanto al comune c'è il nome del capo locale. Controllare i 106 comuni della provincia di Caserta significa influire su chi doveva fare il sindaco, su che giunta bisognava leggere, su chi doveva fare l'assessore. È normale. Insomma, mica tanto normale. Manca a giorni latina o sud latina. Le chiedo, questa è la mappa del sud del Lazio, lei ha dichiarato e ha messo a verbale. A Borgo Montella, sì. Dove? Me lo puoi indicare? Nella prima cava di Borgo Montella. Qua c'è Latina? Guarda, è più a sud di qua. Qui, in questa zona qui? Borgo Montella, sì. Qua? Gli scavi sono stati fatti fino alla falda acquifera. No, ha superato. Quattro metri sotto la falda acquifera, siamo andati a certi punti. Che poi quale bonifica possono fare? Io voglio sapere. Ma tu ti rendi conto che là si cominciano a scavare in due o tre siti là e ci c'erano ville? Dove la mettono? Milioni di tonnellate di roba. Schiattate, frate. Grazie, chef.